musica ti levo detto la mia moglie compra una taglia più grossa di questa camiglia ma vedi come fa la poccia tu qui in mezzo adesso mi ha dato i soldi eh adesso mi ha dato eh Carloncelli Yalu tu vedi riconoschita tutti ma mi ha never riconoschita tutti come never riconoschita tutti eh è nanni che è nanni che sotto il circuito voleva dire riconoschita tutti allora famo di no eh va bene va bene guardate il famo di grande sottile sei il numero uno ciao ma che cazzo l'ha mai vista questa fammi aprire la torta con le arme le salticce allora si 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 adesso ci vuoi ma quanto mani il cocco eh basti eh ascolta una cosa se ti chiedi consigli ricci tu ne di niente si ma io ma io ma io tanto ne dico niente anzi si do un consiglio e gli do attraverso almeno sbagliano eh ma no e mi ha stato pronto eh che è questa maia? che ha avuto che ha avuto ha avuto ha avuto che ha dato ha dato ha dato ha dato ha dato ha scorda ma so oh ma mi mi guarda il cul quello a me la maia è venuta roccia bianca oddio ma tu non è che mi fassi tamponato il parcheggio e funchiappi via no? eh va bene ma certo ma tardavi i soldi volevo dire se non ci manca via uno due tre quattro le vie che numero bravo guarda che sono buon anche eh 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 uno due tre oh dio aspetta guarda che numero eh ma sta fermo senza bono aspetta volevo salutare grazie mister che è perso è perso ciao grande misterone grazie che è perso grazie sei in grande è perso oh è così è ma iai quanzo è tristi comunque chi perde si dice il coglione no? eh certo somaro ma VITAL dove? all'allenamento sta attento guarda ma sta attento però io campione ah ma lui avè matto oddio palo burton ma mi sei lì anche lì indietro ah c'è il toro oh 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 aiuto aiuto ciao VITAL ciao quanto è bravo il nostro allenatore ciao no ciao 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 Grazie.